Questo video riguarda i migliori 3 barcode scanner. Il vincitore della qualità è il Tera1D. Il display LCD mostra chiaramente lo stato corrente dello scanner, la modalità di connessione corrente, il livello della batteria, l'ora corrente, le informazioni sul codice a barre, il numero totale di codici a barre memorizzati. Stazione di ricarica e supporto e ricevitore USB, Bluetooth e wireless wireless 2,4GHZ e USB cablato, modalità di scansione singola barra modalità di attivazione dei tasti e modalità di scansione continua e modalità automatica barra sensore. Coda bar, code 39, code 32, interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, code 93, straight 2 of 5 industrial, straight 2 of 5 IATA, matrix 2 of 5, codice 11, codice 128, GS1-128, UPCA, UPCE, EAN, 8, EAN, 13, MSI, barra dati GS1, barra dati GS1 limitata, barra dati GS1, matrice dati, eccetera fornito dal nostro servizio clienti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è le Yoyo 2 di portatile Bluetooth. Design con solo 90G barra 3,1 W di peso e staffa retrattile. Lo scanner di codici a barre può essere facilmente installato su telefoni cellulari con una lunghezza di 5,4 trattino 6,5 pollici. Lo scanner di codici a barre con clip posteriore EYOYO è appositamente progettato per funzionare con il tuo smartphone. EYOYO scanner di codici a barre con capacità avanzata del sensore CMO è che può acquisire facilmente la maggior parte dei codici a barre 1D, come UPC barra EAN, code 39, interleaved 2 of 5, code 93, code 128, codabar, eccetera. Design con 3 pulsanti di scansione, per ottenere più posizioni sinistra, destra, su e giù per la scansione, permettendoti di scegliere più facilmente un modo di scansione più comodo. Risparmia tempo e aumenta la tua efficienza. Il vincitore del premio è l'EYOYO lettore di codici. Facile da configurare, non è necessario installare alcun software e driver. Può funzionare facilmente con Windows, Mac OS, Linux, eccetera. È un ottimo strumento utile per la gestione dell'inventario e il sistema POS. Acquisisci codici a barre 1D e 2D su etichette, carta e schermo di telefoni cellulari o computer codici a barre 1D compatibili come UPC barra EAN, UPC A, UPC E, code 39, ISBN, interleaved 2 of 5, code 93, code 128, codabar e codici a barre 2D compatibili come PDF 417, QR code, data matrix, eccetera. Questo lettore di codici a barre a mani libere che puoi posizionare direttamente sulla scrivania o sul tavolo, non è necessario sollevare lo scanner durante la scansione, soprattutto per il cassiere per liberare le mani in modo che possano afferrare merci pesanti e grandi. Ci siamo impegnati a perseguire prestazioni di scansione rapide e accurate, un servizio clienti amichevole e tempestivo, migliorando così l'efficienza e la soddisfazione del lavoro dei clienti. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.